ma pare che questi qui abbiano pagato 3.000 euro tipo per prendersi uno spazietto lì così ma e questi orti come funzionano c'è tipo questo apprezzamento di terra qui che abusivo viene pagato a qualcun altro per essere preso no pensiamo se ci sto dentro io vieno unici sempre un pezzo di orto e di capo qualcosa diamo 100 euro di orte grazie a tutti